I comuni di Atena, Lucanna e Sant'Arsenio si sono costituiti parte civile nel processo Shamar sugli sversamenti abusivi nel Vallo di Diano e l'associazione Resta, presente con Libera Vallo di Diano all'udienza dello scorso 9 febbraio, critica la mancanza di un'uguale presa di posizione da parte di altri enti territoriali. Riteniamo, dicono, che in questa vicenda solo i comuni di Atena e Sant'Arsenio abbiano reagito in modo coerente, almeno in questa fase, per la tutela del territorio e dei cittadini. Ribadiamo che una delle possibili azioni che avrebbe consentito alle altre istituzioni territoriali di chiarire la loro posizione poteva essere proprio la costituzione di parte civile nel processo in questione, ma ciò non è avvenuto. Un atto d'accusa preciso che fa nomi e cognomi. Ci riferiamo nello specifico, dicono, al Comune di Polly e a tutti gli altri comuni del Vallo di Diano, al Consorzio di Bonifica, al Consorzio di Bacino Salerno 3, alla Comunità Montana e al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Shamar ebbe una vasta eco perché mostrò, attraverso il sequestro di 18.000 litri di rifiuti chimici speciali, le foto attestanti la diversa colorazione dei terreni in cui vi erano stati sversamenti e i nomi degli imputati e i rischi per il territorio al centro di questo presunto traffico di rifiuti illeciti. Di qui le preoccupazioni e gli interrogativi sullo stato di salute del Vallo di Diano e sulle connessioni con l'aumento dei tumori nel comprensorio. L'associazione Resta, costituitesi proprio in seguito alla vicenda giudiziaria, avrebbe voluto un maggiore coinvolgimento degli enti comprensoriali. Esprimiamo, conclude l'associazione, pieno sostegno ai comuni di Atena Lucane e San Tersegno e al Circolo di Lega Ambiente Campania. Continuiamo a mobilitarci insieme per promuovere e tutelare la cultura dell'antimafia nel Vallo di Diano.